Grazie a tutti. 24 Sport, ben trovati. In apertura ci dedichiamo immediatamente al calcio perché mentre Gioi Saputo ha costituito una nuova società per la ristrutturazione della Dallara, il Bologna inteso come squadra punta a recuperare per la partita di sabato contro il Genoa tre pezzi da 90 come Barro, Orsolini e Capitan Poli. Sentiamo. Il Bologna FC 1909 comunica di avere costituito la società Bologna Stadio S.p.A. che è per oggetto sociale la riqualificazione e la gestione della Dallara. Il consiglio di amministrazione è composto da Gioi Saputo, presidente, Claudio Fenucci, vicepresidente esecutivo e Gioi Marsili, consigliere. Si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Bologna. Tutti i personaggi interni ed endemici al Bologna FC attuale. Il progetto per la ristrutturazione del Dallara e per il restyling dell'area circostante è stato ormai presentato più di un anno fa, originale 2019, per poi essere rivisto in seguito. I costi, inizialmente stimati in 70 milioni, 30 dei quali pagati dal comune di Bologna, dovrebbero agirare sugli 80-85 milioni circa, mentre i lavori dovrebbero partire nel maggio del prossimo anno. Intanto, il Bologna, inteso dal punto di vista prettamente sportivo, si sta preparando per la sfida di sabato contro il Genoa e buone notizie sembrano arrivare dal centro sportivo di Casteldebole. Contro la Roma, infatti, sia Musa Barro che Riccardo Orsolini erano usciti a dir poco acciaccati dal terreno di gioco, rischiando di non recuperare in tempo per la prossima giornata. I segnali però sono positivi. L'attaccante, arrivato a gennaio dall'Atalanta, ha ripreso a correre e sembrerebbe essere pronto per giocare sabato. Difficile dirlo con certezza, ma i segnali sono buoni. Ad Orsolini, invece, sono stati tolti punti di suture e anche lui dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la prossima partita. La certezza non c'è, ma come detto c'è molto ottimismo nell'ambiente. Intanto da Ravenna arriva una disco verde per il Bologna. L'ipotesi che il club rosso-blu possa disputare le partite del campionato 2021-2022 allo Stadio Benelli prende sempre più piede. Come scopriamo nel servizio? Il confronto è stato avviato, anche se sono ancora tanti i nodi da sciogliere. La possibilità di portare il Bologna a Ravenna è ormai molto più di un'ipotesi, specie dopo l'esito positivo dell'incontro avvenuto nella mattinata di mercoledì tra il sindaco Michele De Pascale e la Dede Rosso-Blu, Claudio Fenucci. L'esigenza è nota. Il Bologna è alla ricerca di uno stadio in cui ospitare le partite di campionato durante i lavori di riqualificazione all'Allara, ovvero per tutto il 2021 e per buona parte del 2022. In questo senso lo Stadio di Ravenna darebbe delle garanzie migliori rispetto alle altre ipotesi sulla carta più percorribili, le varie Cesena, Ferrara e Modena, tutte però immediatamente scartate per i cattivi rapporti tra le tifoserie. Un Benelli che verrebbe ampiamente ritoccato nei settori delle curve e dei distinti, a fronte di una tribuna corvetta invece salvaguardata, per portare la capienza a quella quota 16.000 richiesta per la Serie A. Costo complessivo dell'operazione, una cifra compresa fra gli 8 e i 10 milioni di euro, buona parte coperta proprio dal Bologna. Ecco allora che potrebbe profilarsi un'ulteriore evoluzione. La pazza idea, secondo lo scenario prospettato dal Corriere di Romagna, sarebbe quella di un ingresso in pompa magna di Joyce Aputo nella compagine societaria del Ravenna per rendere il club bizantino un vero e proprio satellite del Bologna. Un'eventualità ancora tutta da valutare, ma forse mai come in questo caso gli sviluppi clamorosi potrebbero essere dietro l'angolo. Parliamo adesso del Cesena e di una prestazione a due facce, quella di Fabrizio Brignani nella gara contro il Padova. Nella ripresa il difensore bianconero è calato di intensità, come ha ammesso lui stesso nel post-gara e nella trasmissione. Pianeta bianconero, sentiamo. Parliamo della partita Fabrizio, molto simile a certi versi, a quella di Piacenza, però insomma c'era davanti un avversario ancora più forte se vogliamo. Per tutto sì, per quello, vedendo l'avversario è un punto che ci fa piacere, anche se dal campo togliendo gli ultimi 20 minuti penso che abbiamo dominato la partita. Cioè togliendo, poi prendendo anche gli ultimi 10 minuti perché comunque siamo in posti bene, abbiamo spesso comandato il gioco e forse volevamo anche qualcosa di più. Se guardiamo proprio il risultato esclusivamente, il punteggio finale, due punti ma sta stretta. Sì, esatto, è quello il rammarico, però la strada secondo me è quella giusta e serve la vittoria ora. In un momento dove il gol non era nell'aria, lo avete subito, un gol tra l'altro un pochino strano, poi magari lo andiamo a rivedere. Da lì sembrava, pensando magari anche all'andata, potesse essere difficile. Sì, infatti l'ingresso di Santini ha dato freschezza, quella che stava calando in noi probabilmente. Io personalmente iniziavo a accusare un po' la stanchezza. Si è chiuso con i crampi. Esatto, purtroppo abbiamo preso questo gol, però la reazione è stata la cosa importante della squadra. Perché penso che il Padova sia una squadra costruita per vincere questo campionato. Parliamo anche di basket. Domani la Fortitudo Bologna scenderà in campo a Pesaro per la sfida contro Brescia, valida per le Final 8 di Coppa Italia. Sentiamo allora le parole di coach Antimo Martino alla vigilia di questo match. Ci siamo guadagnati con una grandissima prima parte di stagione la possibilità di partecipare a questo evento. Una partecipazione importante, anche perché non immaginata all'inizio. E quindi c'è veramente grande soddisfazione, orgoglio di esserci. Pensando anche che tra le altre partecipanti, 6 squadre su 8 disputano le Coppe Europee e Cremona di fatto è la desentrice. È comunque una squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene nel palcoscenico italiano. Quindi siamo orgogliosi, vogliamo affrontarla al meglio, con leggerezza, però cercando di fare il nostro massimo. Iniziamo con Brescia, una squadra sicuramente di livello, una squadra regolarmente alle spalle di Virtus e Sassari. Una squadra che ha profondità, che ha talento, però che cercheremo in tutti i modi di mettere in difficoltà. La prima partita la prepari più o meno allo stesso modo. Quello che va a cambiare è eventualmente le partite successive, perché chiaramente prepari la partita attraverso una riunione, attraverso un video. Innanzitutto è fantastico il fatto che ci siano tantissimi tifosi che ci seguiranno di venerdì. E questo è un motivo in più per noi per cercare di fare il massimo. Per cercare di dare loro una grandissima soddisfazione. Il Clay Sassu-Morelli non si ferma più. L'ottavo successo consecutivo consente ai bolognesi di vedere da vicino le posizioni di vertice del campionato di Serie A1 di Boccette. Niente da fare dunque per il 7 crociari sconfitto col punteggio di 4-2. E dunque Clay Sassu-Morelli sale sull'otto volante. Ottava vittoria consecutiva e caccia le prime posizioni della classifica. Dopo questi tre punti sicuramente potrà vivere un altro momento esaltante in questo campionato regionale di Serie A1. Quest'oggi con il pronto posto dei crociari, straordinario primo tempo, con vittoria delle due coppie abbastanza combattuta. Quella di Cantelli e Bagli per il resto un dominio per Molinari e Sandri. E poi soprattutto una prestazione incommiabile fino quasi sul traguardo di Andrea De Antonis che ha rischiato un po' verso la fine ma è riuscito a battere Roberto Bassenghi. Nel secondo tempo è arrivato subito il 4-0 grazie ad un brusa imparreggiabile che ha realizzato uno scorso straordinario di bocciata. 8 bocciate e 78 punti e ha anniculito un James Magnari che sembrava molto in palla. Non è bastato il grande Marino Fabri se non a limitare i danni. Fabri ha vinto una partita in rimonta contro Roberto Zanelli. E poi c'è stata anche la chicca finale di Marco Fogliera che ha battuto Lorenzo Turroni che si è fermato proprio sul 99. 4-2 per il Classo Morelli e il pronto posto dei crociari va a casa con una sconfitta abbastanza dolorosa anche se il decimo posto in classifica rimane ancora una salda posizione per la squadra Cesenate. Torniamo però sulla notizia data in apertura di questa edizione del Tg. Il Bologna al Benelli e il Ravenna ha saputo. Questo l'interrogativo posto dalla Corriere di Romagna nella sua prima pagina sportiva. Ieri summit in comune tra il sindaco De Pascale, l'assessore Fagnani e la di Rosso Blu Fenucci. Si cerca di adattare i Benelli alle esigenze da Serie A del Bologna. Le parti sono al lavoro su un accordo più ampio. E poi uno sguardo anche a quello che accadrà nel weekend con il derby di Romagna tra Imolese e Ravenna. Spagnoli carica il Rosso Blu per la sfida appunto con il Cesena, non con il Ravenna. Chiaramente questa la correzione e a proposito proprio dei bianconeri una Cesena che mettono a rischio la presenza di Ardizzone, Catturano e Lofaso. Ci trasferiamo però adesso sul resto del Carlino per celebrare assieme al quotidiano nazionale la ricorrenza del sessantesimo compleanno del grande ex arbitro Pierluigi Collina. Collina che comunque sogna ancora il Mondiale. L'arbitro bolognese ancora mi vedo in campo, lui che attualmente è presidente della Commissione Mondiale FIFA. Questo dunque per quanto riguarda la nostra edizione di TR24 Sport. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.